Ciao a tutti ragazzi, sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio parlare di Mystery House, edito dalla Cranio Creations, che io ancora una volta ringrazio di cuore per averci offerto una copia per la recensione e grazie, è veramente un onore collaborare con voi e ci siamo quasi a festeggiare l'anno, il primo anno di collaborazione insieme, spero che ce ne saranno molti altri e grazie davvero di cuore per avermi offerto questa copia per la recensione e grande cranio, grazie davvero di cuore. Parliamo ovviamente di una nuova Escape Room, però questa volta rispetto a quella che hanno fatto precedentemente, questa volta è un Escape Room che secondo me, per come la vedo, ha una marcia in più. Perché? Vediamo una Mystery Room questa volta in 3D, finalmente rispetto a vedere quelle classiche dove abbiamo dei fogli, dove abbiamo delle cartelline da aprire, dove abbiamo magari anche delle carte da osservare e degli appunti da prendere, non che magari diapositive, fotografie, disegni e cose varie. Perché questa, la cosa bella, è che ci sarà veramente una casa, che sarebbe, tanto non ve la faccio vedere, una casettina quadrata, dove guardare all'interno girandola e qui se vi posso dare un consiglio, vi conviene questa casetta che c'è all'interno, appunto questa Mystery House, metterla su un supporto qualcosa che giri. Avete presente a volte quei tavolini anche per la fonduta e cose varie, quelli di legno con un dischetto, a farla girare perché sarete più volte richiamati a prenderla per osservare all'interno, che tutto il gioco sta lì. E è bellino perché da 1 a 5 giocatori, ovviamente collaborativo al 100%, qui come tallo dà dai 14 anni in su, ci potete far giocare anche un ragazzino, magari anche uno di 9-10 anni, un bambino, però a livello di deduzione, oppure anche soltanto riuscire a risolvere gli enigmi, è particolarmente complicato. Quindi è bellino, è per un pubblico molto vasto, però ci vuole una certa logica, insomma, per riuscire a risolvere i problemi, e della durata di 60 minuti. Può durare anche di più, però, siccome il gioco è seguito da un app, l'app vi dice che avete 60 minuti, come in tutte le escape room del mondo, per risolvere l'enigma. Questo gioco, però, a differenza dell'altro tipo di escape room, se superate e sfondate 60 minuti di tetto, il gioco non finisce, continua ad andare avanti, però tipo per ogni minuto in più, vi scala dal punteggio finale, che potete guadagnare vincendo la partita. Anche questo, tra molte virgolette, come li nomino sempre io, è un gioco legacy, e nel pacchetto di base ci sono due avventure all'interno, che non vi facciamo vedere, perché è spoiler, e sono avventure, ovviamente, che una volta che avete giocato, non ci potete più rigiocare. Quindi, lo stesso gruppo che farà Mystery House, finiranno la prima avventura che c'è dentro, la seconda avventura che c'è dentro, e poi non è rigiocabile per niente. Però, ovviamente, sono di quei giochi, anche dal basso costo, che potete proporre anche a degli amici, anche soltanto per stare lì accanto, vedere se risolvono il caso, come voi, magari vi chiedono qualche indizio, voi fate un po' lo splendido, no? Per vedere se risolvono il caso, soprattutto se lo risolvono meglio di voi e nel minor tempo possibile, quindi chi fa anche il record. Ed è un gioco molto bellino, mi dispiace che vi faccio vedere un po' di immagini montate sopra, mentre vi parlo del gioco, perché non vi posso far vedere niente. Farvi vedere le carte che ci sono dentro è spoiler, farvi vedere le carte messe dentro la casa è già spoiler, quindi già quello che vedete è qualcosina, se è spoilerato, ma se no sarebbe impossibile farci il video. Quindi teniamo gli spoiler almeno il più basso livello possibile, e vi faccio un pochino vedere com'è dentro, più che altro con l'unboxing. Però è un gioco che se ne può parlare tranquillamente, ma non si può mostrare appunto per questa sua componente Legacy, che una volta giocato non è rigiocabile. Unboxing. Questa è la confezione del gioco, che come vedete è bellissima, è la cosa che mi ha tirato da morire, perché è bellino il disegno, è la classica casa vittoriana, oppure usata per i film di Psycho, o come vediamo anche nella classica copertina di film di un tempo, tipo La Casa, che poi non c'entrava niente, ma c'era sempre questa, L'Esorcista e film del genere. Quindi è veramente molto bellino, come disegno, colorazione e tutto quanto, e vi assicuro che ovviamente il logo dell'editore non è tanto grande, quindi anche tranquillamente trasportabile, e poi sta tutto qua dentro, perché praticamente anche la casa che vedete all'interno, la Mystery House, è grande praticamente come il box. Veramente molto bellino. Apriamo. Questa è tutta la location di gioco. Voi vedete, qui ci sono delle scanalature e dei taglietti, e voi qua giù dentro, ovviamente da un lato ci sono le lettere, vedete qua giù ci sono le lettere, e da una parte i numeri. Quindi una carta che ad esempio c'è scritto sopra, io piglio dalla mia parte che è di qua, A1, voi la dovete mettere in A1, che sarà qui. Oppure se una carta vi chiedesse B5, voi quella carta contate, ovviamente tanto ci sono i numeri alati, B5, l'andrete a mettere qua giù. E questo gioco va osservato direttamente dalle finestrelle. Quindi ciascun giocatore di voi, perché è un gioco cooperativo, deve risolvere gli enigmi soltanto vedendo quello che ha davanti, cioè quello che è osservabile tramite finestrelle o buchi. Ovviamente guardando sempre dritto, ma nel caso siete entrati in una stanza, la stanza magari ha due pareti, quindi potete guardare sia davanti a voi che anche laterale quello che c'è. E guardando quello che c'è all'interno della casa, voi tramite l'app dovete individuare gli oggetti che ci sono, tipo un coltello, una corda, un letto, un enigma, una cosa del genere. E quando salite lì, l'app vi chiederà in che stanza voi cercare, e allora te A1, B2, tanto lo vedete sopra, semplicemente come c'è scritto, e lui vi dirà, ok, in questa stanza cosa vuoi cercare? Vi dà una lista e voi cercate per gli oggetti che vedete rappresentati. Stessa cosa se volete risolvere enigmi, combinazioni e cose varie, è tutto quanto seguito appunto dall'app che è indispensabile per giocare. E il gioco è tutto qui, voi dovete semplicemente girare, guardare all'interno, e guardando dalle finestre riuscire a trovare più dettagli. Quando avrete risolto una carta, sarà di solito sempre, poi soprattutto se ho un portone, un cancello d'entrata, sarà sempre l'app che vi dirà, ok, che ne so, carta B3, B4 risolta, allevatela, quindi voi la levate e guardando da qui guarderete direttamente quella successiva. Ricordatevi di giocare usando una torcia o se non avete una torcia con la luce del telefono perché comunque, insomma, fa anche abbastanza buio magari mettendoci la laterale tutte per riuscire a vedere più dettagli. E all'interno, aprendolo, che questa è veramente sia la confezione che il tavolo da gioco, praticamente il tetto della casa, all'interno c'è il regolamento che è facilissimo ragazzi, poi c'è poco da spiegare. Dovete praticamente guardare dentro le stanze e quando l'app ve lo dice dovete pescare una carta di un numero. Quindi mettetele sempre in ordine da 1 al fondo e magari l'app vi dirà ok, hai trovato una bambola, hai trovato un coltello, prendi la carta 3 e la carta 28 ad esempio e voi qui andate a prendere dal mazzo le carte che vi dirà, l'app ovviamente si può anche mettere in pausa e qui c'è la prima avventura che è ritratto di famiglia e qua dentro ci sono tutte le carte che dovete impilare come vi ho fatto vedere quindi non l'aprite fino a quando ovviamente non la giocherete perché sennò vi spoilerate la storia e da quest'altra parte invece c'è il signore del labirinto che è la seconda avventura. Queste sono le due che trovate dentro la scatola del gioco e tutte le altre usciranno direttamente sul sito o comunque anche nei negozi che vengono prodotti della Cranio Creations e saranno ovviamente compatibili per giocarci. Quindi queste sono le prime due avventure ricordatevi non ve le spoilerate perché le potete giocare praticamente una volta sola una one shot. Dunque in conclusione questa Mystery House è un escape room veramente divertente e vi devo dire la verità rispetto ad altri prodotti come questi magari di carte o anche con tabelloni con cose da vedere nei guida da risolvere e buste soprattutto da aprire questo mi ha garbato molto di più perché il setup è molto più veloce è molto più difficile sbagliarsi perché quello che trovate qui dentro sono le carte da impilare qui e nient'altro e in più ci sono le carte quelle che vi ho detto degli oggetti che potete trovare in quell'avventura quindi spacchettate e mettete spacchettate e mettete il mazzo fine non c'è tante ose da girare il cronometro una cosa un'altra il timer da fermare no 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 avviate l'app che è dato bellina anche come musichetta e tutto vi fa un po' da sottofondo atmosfera il gioco è già bello intavolato mi piace molto di più rispetto a altre escape room perché è in 3D quindi come avete visto qui c'è proprio da guardare fisicamente dentro cioè non è da guardare un'immagine e studiarla qui c'è veramente da prenderla da guardarla oh aspetta laggiù nell'angolino ho visto che c'era una chiave legata a un filo sopra la porta una cavolata no quindi è veramente bellina e qui si vede l'attenzione soprattutto quello ci vuole uno con una buona vista eh io ho avuto un po' di problemi comunque è fatto veramente bene è divertente dove lo portate lo portate fate divertire ve l'ho detto se l'età è leggermente alta non è perché un bambino di 10 anni ce lo fate impazzire che è un gioco che è bellissimo però un po' di logica un po' di deduzione un po' risolvere i problemi però magari è che il bambino il figlio del mio amico il collaboratore Pippo secondo me ci potrebbe giocare perché anche se non arriva a risolvere l'enigma però magari ti dice guardando di dentro magari papà papà laggiù in fondo ho visto un orzacchiotto o come vi ho detto ho visto non lo so qualsiasi cosa un piccone un pezzo di legno quindi magari te non l'hai visto non ci ha fatto caso e vai a segnare vai a vedere nell'app se effettivamente c'era quindi se le devo dare un voto a un gioco molto divertente come questo le do un 7 su 10 meritatissimo veramente divertente consiglio mio spensierato se cercate un escape room partite direttamente da questo perché questo dà anche quell'immersività e dopo un pochino a son di guardare dentro quella casa cioè centi dentro cioè ti sembra veramente di esserci ed è veramente molto bello non ho provato la seconda delle avventure però la prima l'abbiamo finita ed è veramente gotica sembra un po' un racconto di piccoli brividi è veramente divertente ed è molto 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 bellino e ci vuole anche tanto occhio e tanta attenzione quindi munitevi di torcia entrate nella mystery house che è veramente divertente io ancora una volta ringrazio Cranio Creations per averci offerto una copia per la recensione grazie ragazzi veramente grazie di cuore è un onore collaborare con voi primo link è in descrizione dove acquistarlo ma comunque lo trovate in tutti i negozi che vendono prodotti della Cranio Creations e tutti gli altri link ai nostri social fateci sapere cosa ne pensate e alla prossima ciao ragazzi grazie a tutti